Economia, potenziare il turismo per far ripartire l'economia del mezzogiorno. La ricetta del presidente di Convindustria Vincenzo Boccia. Montesano, stazione Terne. Il gruppo risveglio civico commenta la sentenza del Tarlazio. Invitiamo a maggior rigore. Campagna prevenzione. Fino alla fine di marzo screening gratuiti per la prevenzione promossa dall'aslo di Salerno. Sassano, inaugurata terrazza sul corso. Sabato scorso il taglio del nastro. Palermo, celebrazione in onore di Gio Petrosino a 110 anni dall'omicidio. Due giorni di incontri e convegni per la delegazione padulese. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Mettere il mezzogiorno al centro del programma di rilancio dell'Italia, con il mezzogiorno che deve a sua volta ripartire dall'elemento di maggior ricchezza, la cultura e quindi il turismo. E' questa una delle proposte che il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, propone per poter far ripartire l'economia italiana. Vediamo. Far ripartire l'economia dell'Italia dall'impresa cercando di dare centralità al turismo e alla ricchezza culturale presente nell'Italia, ma anche dare maggiore supporto infrastrutturale al mezzogiorno. Sono queste alcune delle principali ricette che il presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, propone per dare slancio e crescita ad un paese da troppo tempo fermo nella morsa della crisi economica. Il Sud può e deve avere un ruolo centrale in un progetto di rinascita dell'economia italiana. Per Boccia è necessario iniziare a parlare di questione nazionale e di fare in modo che l'Italia possa prendere il ruolo centrale che riveste nel Mediterraneo. La politica deve ritornare a riparlare di questione nazionale attraverso la questione industriale, avere una visione dell'Italia che non sia periferia d'Europa ma centrale tra Europa e Mediterraneo in questo mezzogiorno assumerebbe un ruolo di centralità totale, una visione molto più larga del mondo. Per ripartire Boccia riprende quella che è anche l'idea della strategia delle aree interne che è stata anche oggetto di valutazione in altre occasioni, il potenziamento del settore turistico e la valorizzazione dei beni culturali presenti. Per far ciò è anche però necessario potenziare le infrastrutture e i collegamenti. Uno dei principali elementi che l'industria e le imprese devono sfruttare per poter anche dare un nuovo slancio all'economia è sicuramente la riccofferta turistica del Sud Italia, valorizzare grandi attrattori come la Certosa di San Lorenzo ed intorno ad essi costruire e potenziare il settore imprenditoriale. Come Confindustria abbiamo un'idea larga di industria, industria del turismo, della manifattura, delle costruzioni, della cultura e dei servizi. Tra l'altro il turismo è un'asse fondamentale del paese perché significa attrarre turisti e quindi attrarre ricchezza. Occorre una dotazione infrastrutturale per collegare territori a centro, attrarre turisti. In questo l'aeroporto di Salerno può giocare un grande ruolo come tanti aeroporti nel paese hanno giocato un ruolo nell'attrarre turisti nei territori ed è una sfida di comunità, di paese e di idea di paese. Ripeto, quando entra in gioco bellezza, equilibria anche delle posizioni naturali che sono un dono che abbiamo come italiani entra in gioco l'Italia, entra in gioco territori molto belli come il Vallo di Diana, la Certosa di Padula che sono dei capolavori che dobbiamo far scoprire al mondo. Ed ora la cronaca. Nello scorso mese di febbraio erano state fermate per furto aggravato sette persone ritenute responsabili di circa 90 furti tra Campania e Basilicata nel corso di un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Agropoli in collaborazione con quelli di Vallo della Lucania e di altre compagnie locali. Ieri il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei difensori dei due e degli arrestati che sono stati messi in libertà. Si tratta di cittadini stranieri senza fissa dimora, uno dei quali risulta anche irregolare sul territorio nazionale. Per loro sono stati disposti i domiciliari. Le indagini e i peridamenti compiuti dai militari dell'arma fecero emergere una rete criminale che metteva a segno furti in una vasta parte del territorio salernitano tra la Piana del Sele, il Cilento, il Vallo di Diano, l'Alto Sele, il Tanagro, Vicentini e nelle province di Avellino e Potenza. Gli arresti furono compiuti a Roccadaspide, Eboli, Ponte Cagnano e Battipaglia comuni di residenza degli indagati. I sette extracomunitari, una volta compiuto il furto, cedevano le furtire a tre malfattori residenti nell'Interland Vesuviano che avevano il compito di piazzare la merce. Durante l'attività di ricerca degli stranieri un sotto ufficiale venne anche aggredito dai malviventi che una volta vistisi scoperti nel fuggire colpirono il militare. Ed ora cambiamo argomento. A distanza di una settimana dalla diffusione a mezzo stampa dell'esito della sendenza del Tar del Lazio il gruppo di minoranza del Comune di Montesano sulla Marcellana e di Sveglio Civico commenta l'esito del ricorso ritenendolo inutile essendo già noto l'esito. Vediamo. La sentenza del Tar Lazio dello scorso 29 gennaio che ha respinto il ricorso contro la Terna S.p.a. del Comune di Montesano sulla Marcellana diventa oggetto di intervento da parte della minoranza consigliare cappeggiata da Renivaldo Lagreca ritenendo che l'esito della sentenza sia stato minimizzato. Nei giorni scorsi il primo cittadino Giuseppe Rinaldi nel commentare la decisione del Tar ha ricordato come il ricorso fosse stato presentato sulle modifiche sopravvenute al progetto iniziale per i piani di sviluppo datati 2013-2015 in cui si faceva riferimento ad una stazione di capacità 220 su 150 kV potenza della centrale in costruzione a Montesano Scalo rispetto al precedente piano del 2011 in cui invece si parlava di una centrale della capacità di 380 su 150 kV. Inoltre Rinaldi sottolineava come la sentenza non era da definirsi fondamentale nella battaglia per impedire la realizzazione dell'impianto. Il gruppo Risveglio Civico commenta «Inutile minimizzare, abbiamo più che perso». Nella nota il gruppo riferisce che a seguito della diffusione della notizia a mezzo stampa relativa alla sentenza del Tarlazio che ha giudicato inammissibile ricorso del Comune, nello stesso giorno hanno sentito il dovere di chiedere copia della sentenza. Eletta la motivazione dichiarano che l'impossibilità per il Comune di ricorrere è evidente. Pertanto per il gruppo si è trattato di un dispendio di denaro dei cittadini. «Non condividiamo i toni esaltati dopo l'udienza», scrive il gruppo di minoranza, «e neppure l'autocompiacimento del Comune e la superficialità riservata all'intervento della senatrice Gaudiano. Abbiamo però evitato di polemizzare. Ora però è necessario chiarire che con simile metodo non siamo d'accordo. Non si ricorre al giudice conoscendo già l'inammissibilità del ricorso. Gli atti vanno impugnati entro i termini. Le iniziative intraprese non hanno portato fin qui frutti». In conclusione, il risveglio civico, sottolineando la sua contrarietà all'insediamento di Terna, invita tutti ad un maggiore rigore e attenzione. Andiamo avanti. Il ricercato numero uno in Colombia, Domenico Antonio Mancusi-Oios, si nasconde sul territorio salernitano, in particolare nel Cilento. La notizia è stata lanciata da un servizio del programma Le Iene, andato in onda domenica sera con un reportage dell'inviato Luigi Pelazza. Il latitante italo-colombiano in Colombia era ai vertici dell'Auc e organizzazione paramilitare accusata di esecuzione a politici, assalti a villaggi, bombe nelle attività commerciali e anche per il narcotraffico. Nel 2014 Mancusi-Oios era stato già catturato dalle autorità italiane, ma venne poi messo in libertà poiché non poteva essere stradato. Da quel giorno Mancusi ha piede libero nel nostro paese. Luigi Pelazza delle Iene si è messo quindi sulle sue tracce e dopo un lungo appostamento è riuscito ad incontrarlo. Il latitante nega di aver commesso gli omicidi che vengono addebitati e gli altri chimini per i quali la Colombia lo vorrebbe dietro le sbarre, ma resta il fatto che si nasconde in Italia per sfuggire al processo. Interpellato dalle Iene, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha promesso che prenderà i provvedimenti opportuni. Ed ora cambiamo argomento. Le parrocchie San Pietro Apostolo e Santo Stefano di Sala Consilina domenica scorsa hanno invitato la comunità a riflettere sul ruolo e sull'azione della donna nel quotidiano attraverso il convegno d'artitolo Quello che le donne non dicono. Quello che le donne non dicono è il tema del convegno promosso a Sala Consilina in occasione dei giorni dedicati alla festa delle donne. Le parrocchie di San Pietro Apostolo e Santo Stefano, entrambe guidate dal parroco Don Domenico Sant'Angelo, hanno organizzato per domenica scorsa l'incontro traendo spunto per il titolo dalla canzone di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Un incontro voluto anche per cercare di riflettere sulla condizione delle donne nel nostro territorio e per cercare di spronarle verso un dialogo ed un'apertura al fine di comprendere meglio le difficoltà che le donne possono vivere, ma che spesso non vengono recepite dalla società. Io sono parroco di entrambe le parrocchie, sia di Santo Stefano che di San Pietro, con le quali abbiamo voluto ideare questa giornata di riflessione. Che non fosse qualcosa di stereotipato, perché in genere quando pensiamo all'8 marzo è qualcosa o appunto di dovuto, però senza un motivo particolare. Allora per non fare qualcosa senza un serio motivo di riflessione, abbiamo detto intanto organizziamo qualcosa che serve a pensare, a riflettere e anche a confrontarci appunto su che cosa le donne vivono, vivono anche nel nostro territorio. Per cui il nostro non vuole essere solo una discussione astratta o qualcosa di teorico, ma vuole essere proprio un riferirci alla situazione attuale delle donne, cosa le donne vivono nel nostro territorio, cosa dicono, da cui poi il titolo ispirato dalla canzone cantata da Fiorella Mannoia. L'iniziativa avviste al fianco delle parrocchie l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone e l'assessore alla cultura Gelsomina Lombardi, membro della consulta delle donne amministratrici del Vallo di Diano, che supportando questo progetto ha voluto così anche manifestare e invitare a riflettere sul ruolo della donna che nelle difficoltà riesce ad andare avanti nel silenzio e come sottolineato dall'assessore Lombardi, appunto senza dire. La volontà forse di mettere in luce quello che è l'impegno che le donne ogni giorno svolgono, perché tanto spesso le donne non dicono ma vanno avanti, vanno nei loro impegni sociali, familiari, economici. È in realtà una riflessione sul voler mettere in evidenza quello che è poi l'aspetto umano delle donne, che di fronte ad ogni situazione comunque vanno avanti. La consulta ha cercato di fare proprio questo, io sono qui in veste proprio di rappresentante, la consulta delle donne amministratrici, ed è stato volersi mettere in gioco al di là di quello che poteva essere l'opportunità delle quote rosa, contro le quali noi abbiamo un po' contestato questo inserimento ovviamente legislativo, ma ne abbiamo visto l'aspetto positivo, il lato positivo, è diventato per noi un'opportunità per dare voce alle donne del territorio ed impegnarci creando una serie di attività sul territorio perché potessero poi dare a loro una possibilità di ascolto, di respiro in ambito sociale e sanitario, sostenendo in primis il centro antiviolenza retusa e poi tutta la rete sociale messa in campo dal consorzio. Capitolo Sanità L'ASL di Salerno per il mese di marzo è la festa delle donne prosegue con la sua campagna di prevenzione delle patologie, in particolare tumorali. Il camper dell'ASL in giro per tutte le piazze salernitane ha a disposizione degli utenti. Continua sul territorio campano la campagna di prevenzione promossa dalla regione in occasione dell'8 marzo, festa della donna. Sono previste fino alla fine del mese di marzo visite gratuite presso i presidi delle ASL e tour con camper in giro per alcuni comuni del territorio. Nel corso dell'iniziativa sarà possibile sottoporsi gratuitamente a check-up ginecologico e senologico e ricevere la consulenza di esperti del settore. Il programma prevede anche momenti di approfondimento, nonché la distribuzione di kit per lo screening del colon retto. Sono tanti gli appuntamenti organizzati sul territorio salernitano, tutti dedicati allo screening alla mammella per le donne dai 50 ai 69 anni, servizio uterina per le donne dai 21 ai 64 anni e colon retto per le donne dai 50 ai 74 anni. Le giornate di prevenzione sono previste in orario 9-16. Il 17 marzo tappa a Roccadaspide in piazza 20 settembre. Il giorno seguente appuntamento invece ad Agropoli in piazza Vittorio Veneto. Il 19 marzo le visite gratuite si terranno a Vallo della Lucania in piazza Vittorio Emanuele. Il 20 marzo medici ed esperti aspetteranno le donne per gli screening gratuiti a Palinuro in piazza San Nicola di Mira. Il 21 marzo tappa a Sapri in piazza Plebiscito. Il 22 toccherà il territorio di Polla a cogliere il camper dell'ASL in piazza Forte. Ultima tappa a Pagani il 24 marzo. Il calendario completo è disponibile sul sito internet della regione Campania. Si è tenuta sabato scorso nel centro storico di Sassano il taglio del nastro e l'inaugurazione della nuova terrazza sul corso. Riqualificata dunque un'area pericolante è stato creato un piazzale dove potersi incontrare e dove poter socializzare il servizio. Inaugurato a Sassano un nuovo punto d'incontro frutto anche della riqualificazione di un'area che risultava essere anche pericolosa. Sabato scorso taglio del nastro della nuova terrazza sul corso. Dopo un lungo periodo di attesa a causa anche della lungaggine burocratica che anche in questo caso ha paralizzato i lavori di abbattimento di un vecchio edificio pericolante e di creazione della piazzetta, finalmente la comunità del centro storico di Sassano sabato scorso ha potuto partecipare all'evento di presentazione dei lavori di rifacimento dell'area. Dall'edificio ne è stato tratto un piazzale adibito a terrazza che affaccia su corso Umberto I. L'ampio spazio è stato inoltre reso fruibile con l'installazione di panchine e aree verdi, il tutto realizzato nel rispetto delle normative di tutela della storicità del luogo. Ad abbellire ulteriormente l'area è un imponente murales che racconta scorci del centro storico sassanese ed in particolare raffigura la chiesa della Madonna del Carmine, che si può ammirare dalla terrazza oltre che dal murales, diventando così protagonista assoluta del luogo. Sabato scorso quindi il taglio del nastro da parte del sindaco Tommaso Pellegrino con una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale e la successiva benedizione della targa da parte del parroco Donotello Russo. A seguire un ricco buffet la cui realizzazione è stata curata dagli abitanti del posto. Una riqualificazione urbana importante, significativa, con il racconto della storia, con la realizzazione dei murales per riqualificare i nostri luoghi. Io penso che i murales raccontano quella che è una comunità, raccontano quella che è la storia di una comunità. E qui c'è veramente un'opera concreta, un'opera utile per la gente, un luogo di aggregazione. L'abbiamo voluto chiamare terrazza sul corso perché è appunto una vera e propria terrazza sul corso principale di Sassano. E voglio ricordare che prima qui c'era una struttura pericolante, qui c'era una struttura transennata e ogni volta diventava veramente per noi un colpo al cuore vedere questa nel pieno centro storico, nel pieno corso, trovare una struttura transennata che rappresentava un pericolo per tutti i tanti bambini che molte volte giocavano anche qui nel corso. Ecco, oggi siamo contenti, abbiamo creato una condizione di sicurezza, abbiamo creato delle condizioni di bellezza, abbiamo creato delle condizioni per le famiglie, un luogo dove possono aggregarsi, dove possono comunicare, dove i bambini possono giocare, quindi siamo veramente contenti. Ed ora è il maltempo. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno abbattuto diversi alberi presenti nel Vallo di Viano. Sulla tratta Santa Arsenio Polla il vento ha abbattuto alcuni tronchi presenti sul ciglio della strada. Il traffico è stato chiuso momentaneamente, ma poi la situazione è rientrata. Anche a Sala Consilina, in via San Nicola, nella frazione Sant'Antonio, le forti raffiche hanno abbattuto un albero e un palo della pubblica illuminazione caduti sulla strada, bloccando il traffico per qualche ora. Per una pura casualità non passava nessuno. Durante la notte, in località Foresta Caggiano, invece, un albero ha tranciato un cavo elettrico, cadendo poi sulla strada. Per liberare l'arteria sono intervenuti gli operai del Comune di Caggiano, coadiuvati dalla Polizia Municipale. Andiamo avanti. Secondo i recenti dati dell'ENIT, ovvero dell'Agenzia Nazionale del Turismo, nei prossimi anni il turismo proveniente dalla Germania verso l'Italia è destinato ad aumentare e la Campania vuole candidarsi ad essere tra le mete più ambite. Per intercettare il flusso turistico, la Regione è presente con un proprio stand all'ITP di Berlino. Anche quest'anno la Campania ha presentato la propria offerta turistica all'ITP di Berlino, la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo, che si è svolta dal 6 al 10 marzo nella capitale tedesca. All'interno dello stand ENIT si sono svolte conferenze stampa e incontri tematici con i media e gli esperti del settore, a rappresentare la Regione Campania una delegazione guidata dall'assessore allo sviluppo e promozione turistica Corrado Matera, un'importante occasione dunque per rappresentare l'offerta turistico-culturale campana al mercato tedesco, che le proiezioni danno in netta crescita. Secondo dati ENIT, infatti, il turismo slow proveniente dalla Germania verso l'Italia è destinato ad aumentare di circa il 70% nei prossimi tre anni. Per intercettare questi flussi, alla mostra mercato berlinese sono state illustrate le eccellenze in un settore ormai trainante dell'economia regionale, che vira sempre più verso l'ecosostenibilità e verso la valorizzazione di aree, una volta dimenticate, trasformate in percorsi permanenti di fruizione a piedi o su due ruote. È essenziale, ha affermato l'assessore Matera, essere innovativi salvaguardando le bellezze naturali delle cosiddette destinazioni minori. Oggi i borghi, il cibo sano, i percorsi di fede, i cammini e il cicloturismo dei nostri parchi, così come le terme, rappresentano il sistema per un turismo più diffuso per i territori, che ha margini di crescita esponenziali rispetto a quelli delle mete tradizionali. Nelle cinque giornate tedesche sono stati programmati anche momenti di show cooking e degustazioni enogastronomiche. L'ITB di Berlino, ha concluso l'assessore regionale Matera, più di una fiera rappresenta una mostra mercato del turismo mondiale. L'obiettivo quindi non è solo la promozione, ma anche l'offerta delle nostre eccellenze ai maggiori operatori internazionali. Stiamo trasformando il territorio campano in una destinazione accogliente in tutto e per tutti. Una terra dove si possa costruire e sviluppare un turismo accessibile, inclusivo e di qualità. Ed ora la pubblicità. Torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie. Restate con noi. Bentrovate la seconda parte del nostro telegiornale. Una folta delegazione padulese, insieme ad una delegazione proveniente dagli Stati Uniti, sono in questi giorni nella città di Palermo, per la commemorazione dei 110 anni dall'omicidio di Gio Petrosino, ucciso dalla mano nera della mafia il 12 marzo del 1909. La delegazione di Padula, insieme alla folta delegazione proveniente dagli Stati Uniti d'America, ha colti ieri a Palermo per le celebrazioni in ricordo dei 110 anni trascorsi dall'omicidio di Gio Petrosino, avvenuto il 12 marzo del 1909. Per ricordare il poliziotto italo-americano, orgoglio ed esempio in America e figura determinante e coinvolgente quando si parla della legalità, a Palermo sono state organizzate una serie di appuntamenti che hanno voluto rendere omaggio alla delegazione proveniente da Padula, città nativa di Gio Petrosino, ed in particolare ai membri dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino e dell'Amministrazione Comunale. Le celebrazioni hanno preso il via nella mattinata di ieri, quando presso il Museo della Anciuga, si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto di educazione alla legalità da Gio Petrosino a Falcone Borsellino. La prima giornata di celebrazioni per commemorare l'omicidio per mano della mafia di Petrosino, oltre ad un dibattito sul tema della legalità, si è anche arricchito con la presentazione del lavoro dal titolo Vi presento Gio Petrosino, che ha suscitato emozione e attenzione da parte dei presenti. Emozione ribadita anche dal presidente dell'Associazione Padulese Vincenzo Lamanna e dall'assessore alla cultura di Padula Filomena Chiappardo, che ne ringraziare per l'accoglienza, hanno anche voluto sottolineare l'importanza che la visita annuale a Palermo diveste per il gruppo valdianese, invitando l'Associazione di Palermo a ricambiare la visita per poter a loro volta far visita alla casa-museo dedicata a Gio Petrosino. Inoltre l'assessore Chiappardo ha elogiato in particolare il grande valore culturale e sociale dello spettacolo realizzato dall'opera dei pupi antimafia dal titolo Gio Petrosino l'incorruttibile e invitando tutti a proseguire sempre nel progetto e nei programmi di prevenzione della corruzione e della diffusione dei temi della legalità. Questa mattina poi la delegazione di Padula e degli Stati Uniti è stata impegnata in un'intensa giornata di commemorazione in ricordo di Gio Petrosino, iniziata con un convegno che si è svolto presso la residenza universitaria Hotel de France alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci e del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. A seguire si è tenuta la cerimonia di consegna del premio associazione Gio Petrosino, assegnato a Pippo Made. La giornata di celebrazione si è poi conclusa con il commovente momento della deposizione di una colonna di fiori sul luogo della morte di Gio Petrosino in Piazza Marina e la scopertura della lapide realizzata e donata da Pippo Made. Legalità. Stamattina gli studenti dell'IC Falcone di Sassano erano al Cineteatro Totò per la presentazione del libro dal titolo, quell'ultimo sguardo Claudio Pezzuto, un eroe moderno scritto da Marco Lamboglia. Andiamo ad ascoltare le riflessioni dei protagonisti. Il messaggio che vogliamo oggi far passare nelle scuole è che l'eroe non è una figura distante, lontano dalla quotidianità. È una persona che fa fino in fondo il suo dovere e anche oltre. E nel senso della quotidianità nella vita certe cose succedono per caso. Io ho scoperto e ho ritrovato una compagna di scuola, la vedova del carabiniere Pezzuto è Tania per me, cioè compagna dell'istituto magistrale e io non avevo saputo, perché ci siamo persi di vista allora, che lei fosse la vedova di un eroe. Il piacere di sapere che lei aveva fatto di questa disgrazia, di questo atroce dolore, una svolta per portare il messaggio di una continuità del marito nelle scuole e trovare me, dirigente, sia nella scuola del comprensivo di Sassano che di Sala Consilina, è come un segno di continuità della vita, per dire ci siamo ritrovati dopo anni, però condividiamo in madrina diversa, lei col suo dolore, io con la mia emozione, una storia che continuerà per sempre anche nel cuore dei nostri ragazzi. Da 27 anni che faccio questo percorso per portare Claudio nelle scuole e non solo, tutti gli eroi dell'arma dei carabinieri e me lo sono ripromesso dal 12 febbraio 92 che non sarebbe finita così, avrei continuato nel nome di Claudio. Noi come Comune abbiamo colto l'invito della dirigente dell'istituto comprensivo Falcone e ovviamente non possiamo che applaudire a questa iniziativa perché credo che non ci sia esempio migliore di celebrare la giornata della legalità attraverso il ricordo di un eroe e vittima di quella che è la violenza che si manifesta in tutte le varie forme. Il ricordo di un carabiniere che è stato ucciso nell'esercizio delle sue funzioni, quindi nel momento in cui combi il proprio dovere è un esempio più che mai vivo e soprattutto da ricordare per le future generazioni. Io conoscevo la storia di Claudio Pezzuto e Fortuna Tarena ma grazie alla signora Tania abbiamo da questo incontro è nato un progetto, un progetto editoriale, un libro e un impegno che stiamo vivendo da qualche anno nelle scuole, nelle associazioni e nella società più in generale. Siamo stati invitati anche come diocesi di Giano Policastro e questa mattina in rappresentanza del Vescovo siamo presenti per esprimere la nostra alleanza educativa con la scuola, con il comune di Sassano, con la comunità montana per affermare la legalità che nasce dalla giustizia seguendo la via dei testimoni di questo straordinario uomo che è riuscito nell'adempimento del suo dovere a salvare tante persone. I ragazzi dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio domani si metteranno in gioco con il concorso regionale di Cucina Flambè promosso dalla Mira di Pestum. Dovranno preparare un dolce alla lampada. Domani è la sesta tappa del tour che vuole promuovere i prodotti del territorio e non solo. Vediamo i dettagli. Si svolgerà domani, mercoledì 13 marzo, dalle 9, presso l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, la sesta tappa del concorso regionale di Cucina Flambè promosso dalla Mira, l'associazione metri italiani, ristoranti e alberghi, sezione di Pestum. Nell'ambito della Mira Flambè Tour, l'evento è stato ideato per promuovere l'enogastronomia del territorio e rappresenta per gli studenti un'importante occasione per mettere in mostra il proprio talento. Il concorso dal tema La frutta Flambè vede coinvolti gli studenti degli istituti alberghieri della Campania ed è organizzato in collaborazione con l'Istituto Ansel Kiss di Castelnuovo-Cilento, l'Istituto Parmenide di Roccadaspide, il Sacco di Sant'Arsenio e la Fondazione Italiana Sommelier della Campania. Il concorso consiste nella preparazione di un dessert alla lampada con prodotti nazionali e non abbinato ad un vino della nostra penisola, a scelta del concorrente. Uno dei ragazzi dell'alberghiero di Sant'Arsenio, selezionato per l'occasione, domani dunque proporrà alla giuria di esperti un dolce alla lampada, una particolare tecnica che solitamente viene praticata nel circuito degli hotel di lusso e dovrà stupire i presenti anche spiegando loro passo dopo passo le varie fasi di realizzazione del dessert. Il tour della Mira di Pestum ha anche lo scopo di valorizzare il metodo flambè. La classica cucina di sala che non viene spesso utilizzata, ma che è capace di estasiare il pubblico con la fiammata che scaturisce dall'aggiunta di cognac o rum in una padella calda. La manifestazione è inoltre un'importante occasione di crescita per gli studenti chiamati a confrontarsi tra di loro in un concorso che esalta le qualità di ciascun ragazzo nell'ambito di un settore, quello dell'enogastronomia, che offre importanti opportunità di lavoro sia in Italia che all'estero. Diffondere e ampliare la passione per il presepe diventa un nuovo obiettivo del Circolo Carlo Alberto 1886 che ha voluto dar vita ad un corso di arte presepiale, sostenendo così l'impegno costante nel tempo dell'Associazione Amici del Presepe di Padula. A partire da giovedì 14 marzo, quindi presso la sede del Sodalizio presieduto da Felice Eterno in via Tenente d'Amato, nel centro storico di Padula, partiranno una serie di appuntamenti che con cadenza settimanale a partire dalle ore 18 preparano gli appassionati alla realizzazione dei presepi artistici. Tre gli appuntamenti in programma, di cui due presso la sede del Circolo nei giorni del 14 marzo e del 21 marzo e l'ultimo presso il laboratorio dell'Associazione Amici del Presepe ubicato all'interno della Chiesa di Sant'Agostino. Le lezioni saranno tenute dai maestri presepiali dell'Associazione Amici del Presepe. Per chi è interessato potrà iscriversi direttamente in occasione del primo appuntamento oppure contattare direttamente i referenti del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 e dell'Associazione Amici del Presepe. Ed ora andiamo ad aprire la pagina calcistica, un weekend nero per quasi tutte le formazioni del nostro comprensorio. Andiamo a vedere il servizio. Verdetti impietosi e nulla da salvare, tranne una piccola eccezione. Questo è il risponso dell'ultimo turno di campionato che ha visto impegnate le formazioni del territorio. Ora testa la volata finale, cercando di evitare ulteriori passi falsi. Lo sa bene il Valdiano, un abitué della sconfitta in questo 2019. Un altro stop, questa volta sul campo dell'Audax Cervinara, per 2-1. Le ultime quattro gare del torneo saranno decisive per agguantare il piazzamento play-out, ora distante un punto. In promozione cade il Buccino Volcei e questa sì che è una notizia. I gialloneri, reduci da una lunga striscia positiva, escono sconfitti dal campo del Giffoni 6 Casali per 3-1. Uno stop che non compromette nulla, visto che il Buccino rimane secondo a quattro lunghezze dalla capolista Angri. In prima categoria un sorriso per il Sassano Calcio, vittorioso per 2-1 contro il Belina. I bianco-azzurri mantengono il terzo posto della classifica. In seconda categoria, invece, altro brutto stop per il Certosa di Padula, travolto a Novivelia per 4-1. Non era facile, si sapeva, ma si ci aspettava una prestazione d'orgoglio che non c'è stata. Nel girone H cade anche il Real Pertosa, battuto per 5-2 in trasferta dalla Prepezanese. Ecco lo sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.